Canella Servizi, trasporto merci, rifiuti e servizi ecologici La Canella Servizi si occupa di svariate attività ecologiche, quali lo spurgo di fosse biologiche, di pozzi neri, di impianti di depurazione civili e industriali, di pozzi di captazione acque potabili e di falda. Gli operatori eseguono anche il lavaggio di tubazioni, sifoni, caditoie stradali e fognature con automezzi dotati di sonde e ugelli canali jet, videocamere per videoispezioni di tubazioni basche e sotterranee, rilevatori ad ultrasuoni per la mappatura di reti fognarie. L'azienda effettua inoltre raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi con noleggio di container, ma anche bonifiche di cisterne per prodotti petroliferi, sabbiatura e verniciatura, operando con tutte le necessarie certificazioni. Canella Servizi, servizi ecologici sicuri e di qualità.